Buonasera a tutti ragazzi e ragazze benvenuti o bentornati sul mio canale è uscito finalmente il game pack di The Sims 4 My Wedding Stories e non vedo l'ora di provarlo ho già deciso dove provarlo con chi provarlo e non vedo l'ora sono eccitatissima spero anche voi siete nuovi come sempre vi invito ad iscrivervi al canale attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti io vi auguro buona visione e ci vediamo tra pochissimo in partita ed eccoci qui ragazzi allora The Sims 4 il mio matrimonio ti dà il benvenuto preparati per il gran giorno fare la domanda fatidica è solo l'inizio dell'esperienza matrimoniale del tuo sim una volta che gli sarà risposto di sì prenderà prenderanno piede l'emozione e l'entusiasmo c'è davvero tanto da organizzare realizza la tua visione soffermati sui dettagli delle nozze imminenti mentre i sim selezionano gli abiti per il giorno del matrimonio e tutto ciò di cui avranno bisogno per il grande momento il menu le decorazioni il programma e ritrovo tutto quanto fai il grande passo quando arriva finalmente il momento lasciati travolgere dall'affetto e realizza tutti i tuoi sogni scambiatevi le promesse gli anelli e sbacciatevi all'altare prima che inizi la festa vera e propria comincia servendo del tè alla famiglia o recati direttamente al ricevimento non vedo l'ora prepariamoci entriamo subito in partita ebbene ragazzi eccoci qui in partita con la nostra sofia che appunto si è fermata vario tempo a guardare questo armadio è qui che chiacchiera con il nostro andrea de angelis una delle ultime conquiste e mettiamo un attimo in pause direi che con lui adesso romperemo il nostro rapporto di amore non so come si fa sinceramente si fa malizia perfido separati separati cominceremo a separarci dai nostri amori in questa puntata che probabilmente durerà un po di più sofia avana si sta separando da andrea de angelis mi dispiace ti prego non piangere così ti prego sofia si è separata da andrea andrea non facevi per noi mi dispiace vabbè andrea vai a casa dobbiamo riparare wow guardate il rapporto no scusa tesoro implora perdono intanto cuore spezzato malinconia da separazione oddio mio se dobbiamo lasciarli tutti quanti auguri faremo una sorta di settimana settimana poi per modo di dire nel senso una mia settimana che poi appunto sarà distribuita nelle settimane con queste tristezze lunghe quanto 10 ore scuse eleganti vediamo un po se posso fare altro amichevole dai regalo regalo amichevole che abbiamo una margherita gli regaliamo ora devo proprio andare grazie per la compagnia ci vediamo dopo mi hai anche scassato il lavandino tesoro ripara anche se non so per quanto ci staremo in questa in questa in questa casa ancora quanto tempo ci staremo adesso vedremo 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 dobbiamo assolutamente ridarci alla nuova vita dobbiamo in questo caso assolutamente riprenderci da questa terribile separazione potremmo farci un pasto su e poi una dormita credite non piangere ho delle sorprese per te come vi avevo detto io e le challenge facciamo fatica ad andare d'accordo anche perché poi non so se mi da li avrei dovuti comunque lasciare secondo me non potevo averne 100 ovviamente quindi automaticamente piuttosto che farla diventare così drammatica melodrammatica eccetera preferisco preferisco appunto dedicare questa serie al nuovo game pack che abbiamo cos'è che fa ah è il frigo che probabilmente ha del ciò ah no dopo troviamo dei componenti io amo trovare i componenti amo evergreen harbor e probabilmente il mio canale è partito proprio con vita ecologica quindi amo evergreen harbor ho avuto un po' di quei problemi che ci sono stati a riguardo dei che sono adesso stati fixati ecco a riguardo del dello scenario quindi ci sono stata poco ultimamente a evergreen harbor ok perfetto puoi buttarlo via e poi e poi io direi che ci prendiamo una vacanza no vabbè bene prendiamoci una vacanza pianifica eventi inuziali anche perché sono curiosa ho visto nuove interazioni già da quando c'è stato l'aggiornamento precedente della settimana scorsa e sono proprio curiosa di vedere appunto tutte quelle che ci saranno adesso con con l'uscita del nuovo game pack che è la patch insomma la patch che c'è stata prima quindi vedremo un po' dov'è il nostro amato eccolo qua forza partiamo ed eccoci qui arrivati nel nuovo scenario di Tartusa che poi mi viene da chiamarlo Tortusa come appunto credo succeda a tanti dove ce ne andiamo in affitto? andiamo a Villaviglia dunque noi abbiamo 1563 simoleon intanto l'affittiamo per un giorno hai dimenticato qualcosa puoi acquistare una varietà di rifornimenti per arricchire la tua esperienza vacanziera tramite il telefono cassetta postale ah no adesso ho capito perché mi dava gli scenari così mi dava gli scenari così perché appunto volevamo andare in affitto che scema eh va bene ho capito ho capito sono solo rimbambita io scusate scusate dunque andiamo un po' a vedere la nostra nuova bella dimora intanto sediamoci e chiacchieriamo qui perfetto andiamo un po' a vedere uh guardate qui fuori cosa abbiamo no dobbiamo sfruttarla subito eh fighi fighi con Brent perfetto wow wow veramente wow ammiriamo un attimo la casa in tutto il suo chic uh semplicemente fantastica ah secondo piano vediamo un po' che c'è vediamo un po' che c'è due stanze da let eh due letti singoli uno studio un letto matrimoniale due bagni wow abbiamo la nostra bella cucina finalmente una cucina decente eh mi sono scordata di loro due wow con uno scenario di questo genere poi una giornata di primavera di questo genere comincia un anno nuovo ditemi che cosa ne avete pensato voi e se appunto vi piace l'idea di averlo di aver deciso di trasformare appunto la 100 by challenge in qualcosa che ha trovato l'amore perché l'abbiamo trovato scaccia dalla vasca a idromassaggio allora vediamo un po' nelle interazioni romantiche perché qui abbiamo moltissimi amici abbiamo appunto tanti fidanzati o ex fidanzati quindi l'amore l'abbiamo tentato ma non l'abbiamo mai trovato se non con Brent il primo lasciamo perdere questo dettaglio chiediamo un massaggio volevo vedere nelle interazioni appunto se ci fossero nuove interazioni ma non mi sembra per ora di vederne di nuove ok d'accordo va bene Brent tu esci grigliamo qualcosa non abbiamo praticamente quasi mai mangiato qualcosa di grigliato anche se Brent potevi invitarci tu eh no guardate quanto è bello sicuramente avrà un restyle del del taglio di capelli credo perché a volte poi succede ma quando appunto sistemo il taglio di capelli poi è una cosa obrobriosa magari il sim che a me non piace insomma dunque chiamiamo a tavola pettegolezzi sentiti dire ovviamente prima di poterci sposare dobbiamo lasciare tutti i nostri ex ragazzi dunque dunque altre interazioni nuove vediamo un posto ce ne sono chiedi a Brent di inseguire il lavoro dei suoi suoi logicamente per quanto appresti il tuo interesse Sofia è stata una giornataccia preferirei parlare di qualcos'altro se non ti dispiace cioè Brent scusa una giornataccia renditi conto che ti ho invitato in vacanza sto pagando la vacanza nel nuovo scenario oltretutto e automaticamente abbiamo appena fatto quel che abbiamo appena fatto nella vasca idromassaggio in più dopo averti coccolato ti ho offerto un piatto di hot dog cioè non gradisce la musica romantica non mi diventare noioso Brent sennò qua non abbiamo un rapporto d'amore diciamo che al 100% di amicizia non proprio non cominciare già a fare la signora che si occupa del lavare i piatti eccetera perché Brent poi dopo sarà messo in riga riponiamo questi che è meglio poi andiamo andiamo in bagno direi e poi a sto punto non possiamo che viaggiare ah no dobbiamo prendere il sole prendiamo il sole in costume da bagno siamo annoiate siamo annoiate mi domando per quale motivo piantiamo una una margherita o una rosa una rosa prima applica la crema solare tesoro e poi dopo pianterai la rosa questo è il nostro primo segno d'amore annoiate come pop ok flertante adesso va bene va bene va bene e guardate la teghiera metti te in infusione quindi camomilla calmante in infusione prepara del confortevole succo di mela te verde salutare in infusione metti te olong corretto in infusione metti te nero intenso te del drago nero te ai fiori d'arancio te ai lagri e grey camomilla calmante sì 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 fantastico bella la nuova lampada brent è un teledipendente comunque dai forza facciamo un giretto viaggiamo sempre con brent sì tesoro però dovevi cambiare gli abiti cambiamo gli abiti e poi stavo pensando che volevo volevo appunto modificare i suoi abiti con aggiungerne con quelli dell'ultimo kit che è uscito è ovviamente questo qui il game pack di my wedding stories bene siamo qui al lounge bar lounge bar chi è lui? no Matteo Matteo presentazione rispettosa queste queste sono le luci automatiche queste bellissime panche da chiesa Matteo caro perché hai una faccia così arrabbiata congratulati per il fidanzamento manco avessimo fatto chissà quale amicizia però possiamo già congratularci bellissimi questi centrotavola sono bellissimi ok ammetto che appunto sto girando la 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 puntata di questa serie appunto scoprendo questo pacchetto con voi quindi non fateci caso se nel frattempo io ammiro tutto quanto suona il pianoforte da quando avevo 5 anni mia nonna mi faceva suonare per lei quando le facevo visita così iniziai a prendere le azioni non era mai facile impressionarla ma ci riuscivo sempre congratulazioni la notizia del vostro fidanzamento ci entusiasma e non vediamo l'ora che arrivi il giorno del matrimonio pettegolezzi appena sentiti sia io che lucia sappiamo cantare lei però suona la chitarra mentre io il pianoforte non vogliamo litigare rallegra perché sono tutti arrabbiati ok nel frattempo ovviamente abbiamo perso il nostro brand serve il cibo focaccine dolci l'anatra arrosto il gulab gulab macca ne sono persa crostatini alla frutta tartusiana servizio servizio cevic pattine serviamo reti alle mandorle altre scelte tempura salsicce peperoni pollo arrosto quindi hanno aggiornato tra virgolette il tavolino che avevamo già e se noi serviamo le focaccine dolci e rimaniamo senza soldi completamente chiamiamo a tavola avanti festeggiamo festeggiamo che cosa non so se io e brand io e la rottura con andrea o appunto l'uscita del nuovo game pack e tutto quello che ci ha ci ha regalato e ci sta ci stiamo scoprendo insomma tesoro brand che ti è successo continuiamo a fare un po' di amicizia appunto wow nel frattempo io mi continuo a guardare appunto tutto il la modalità compre e costruisci diciamo di The Sims di questo game pack tutti gli oggetti che ci ha regalato questo game pack che sono semplicemente fantastici ok torniamo all'alloggio Brent vieni con noi allora abbiamo esplorato il piano di sopra ma lo faremo lo faremo state tranquilli che lo faremo Brent è per caso venuto con noi Brent è già a casa logicamente davanti alla tv va educato questo ragazzo va educato dunque usa usiamo il bagno nel frattempo nel frattempo faccio vedere appunto quanto è bello questo panorama ti è passata la prurigine si bene Brent ti chiedo della tua giornata voglio sapere se ti è piaciuta la nostra vacanza ovviamente tesoro siamo occupate prima di tutto perché te ne vai a dormire lì Brent va bene ci ha abbandonate per il letto singolo noi adesso ce la dormiremo un po' qua domani una volta finita la vacanza appunto finiremo un attimo il tour il tour di Tartusa e poi dopo e poi dopo appunto torneremo a casa per continuare a lasciare i nostri ex ragazzi allora termina la vacanza allora siamo qui a casa e dobbiamo fare ancora colazione alla fine allora per la prossima puntata sarà comunque sistemato il look quantomeno suo però adesso viaggiamo torniamo un attimo a Tartusa e volevo andare a vedere appunto il centro con tutti i vari negozietti ok siamo semplicemente dove eravamo dieci minuti fa però ci tengo ad andare appunto come vi dicevo a scoprire tutti questi nuovi negozietti vediamo un po' ordina del cibo focaccine dolci ravioli focaccine dolci ravioli vegetali involtini primavera le ucisco mappo tofu con maiale anatrarrosto melanzane nagrodolce maiale nagrodolce io direi che siccome è mattina prendiamo le focaccine dolci dato che stavamo appunto facendo le frittelle e siamo dovuti tornare a casa wow qui c'è il cavalletto vediamo un po' qual è il dipinto sul bello dunque quindi questo qua si può ordinare del cibo perfetto poi ce ne dovrebbe essere un altro dove si ordina cibo vediamo un po' qui acquista la torta nuziale ordina del cibo wow si vabbè se ci mettiamo a mangiarle adesso auguri qui possiamo guardiamo le vetrine semplicemente belli questi abiti qui c'è invece c'è qualcos'altro qui ok dunque mi sono mi ero un attimo perso ho fatto un giretto però si abbiamo guardato tutto comprafiori e qui invece appunto si può comprare il buchello nuziale non ci ho pensato ma non abbiamo più un soldo abbiamo 544 simoleon va bene va bene va bene dunque direi che veniamo un attimo a vedere le interazioni sulla sabbia disegna un cuore nella sabbia una stella nella sabbia una faccina nella sabbia sono curiosi della faccina che bella faccina disegniamo qui un cuore nella sabbia soprattutto ecco i tacchi di moschino nella sabbia e disegniamo una stella molto belli questi disegni bene ragazzi dunque direi che ci fermiamo qui per questa puntata andrei avanti per ore vi assicuro che andrei avanti per ore però appunto non voglio non voglio che la cosa sia troppo lunga tanto avrà tutto il tempo di svilupparsi serenamente ripeto dobbiamo comunque prima lasciare gli altri nostri fidanzati dobbiamo vedere se Brent è veramente quello che pensiamo come amore di vita e così spero che appunto l'idea che ho avuto di trasformare l'accento by challenge in una storia d'amore perché l'amore secondo me è stato trovato vi sia piaciuta se così appunto lasciatelo scritto nei commenti e mi fa sempre piacere io spero che appunto vi siate divertiti nel frattempo la prima sbirciata a Tarutusa spero che appunto sia stata piacevole e anche se veloce e per me per adesso direi che mi posso fermare qui e niente vi ringrazio come sempre per avermi fatto compagnia se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like se siete nuovi come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti e noi ci vediamo alla prossima partita ciao 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 ciao